Sarà giudicato con il rito abbreviato Federico Ferrini, il 38enne casentinese che nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi uccisa a colpi di spranga Maria Venazio de Sousa. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Arezzo Giulia Soldini al termine dell'udienza di questa mattina che si è celebrata in videoconferenza causa emergenza Covid-19. Il giovane imprenditore è accusato di omicidio volontario non premeditato e dunque senza aggravanti, per questo il suo legale ha potuto chiedere d'ottenere il rito alternativo che comporta in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena ma la difesa adesso punta ad ottenere anche le attenuanti generiche. Ferrini attualmente si trova nel carcere di Arezzo dove ricopre il ruolo di capo cuoco. La mia richiesta di abbreviato era semplicemente condizionata all'acquisizione da parte del direttore del carcere una relazione sul comportamento tenuto dal signor Ferrini all'interno del carcere per poter dimostrare insomma la suo comportamento e la sua capacità anche rieducativa e così da questo punto di vista infatti è piuttosto impegnato nell'ambito dell'attività del carcere. Il giudice ha ammesso la mia richiesta quindi che provverò a depositare per la prossima udienza. Il giudice del tribunale di Arezzo ha poi accolto le richieste di costituzione di parte civile avanzate dai familiari della donna ai quali dal carcere aretino l'omicida ha scritto una lettera. Si è reso conto purtroppo insomma dello sbaglio del grosso sbaglio che ha fatto non riesce a capacitarsi dell'errore insomma del grave problema che ha fatto e comunque chiede scusa vivamente a tutti alle sorelle alle figlie della signora e anche al marito. L'omicidio si consumò nell'appartamento di via della robbia dove la donna riceveva i suoi clienti al termine di una violenta lite tra i due Ferrini la colpì alla testa con una sbarra di ferro poi la legò per il collo al letto ed infine si diede alla fuga. Ha sempre parlato di ricatti da parte della sessantenne una versione che però non ha mai convinto a pieno gli inquirenti. L'ipotesi appunto del ricatto è certificata da vari aspetti sia criminodinamici sia vittimologici che saranno poi dibattuti in aula sostanzialmente quanto sostenuto da Ferrini rispetto a un ricatto subito dalla Venanzio de Susa corrisponde effettivamente a una verità anche sostenibile attraverso certi dati raccolti nell'ambito dell'indagine. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 7 maggio data nella quale si potrebbe arrivare alla sentenza.